Un saluto a tutti e bentornati sul canale di Safutobu Eccoci qui con Bloodborne Allora, dopo aver parlato con questo tizio Vediamo un po' qua se possiamo proseguire Ah, qui c'è un'altra lanterna Cura è questa? Ok, ok, ho capito, ho capito Allora, qui è chiuso Dovrei tornare, o forse no Dovrei tornare sopra E andare sui tetti Merda, proprio questo C'ho una Molotov Occidenti Forse devo sfruttare l'attacco pesante Merda Porca miseria Aspetta, fammi riorganizzare Che qui non va Ah, questi sono sempre i proiettili Se no io Ma è andato via Avrei anche il lanciafiamme Perché mi piaceva di più della pistola Tanto Lo scudo qua Non mi serve a niente Almeno gli sto un po' distante Così Dov'è? Merda Merda Quanto toglie Noo Porca miseria Che succede? No, io devo recuperare le mie diecimila anime Ci hanno catturati Merda Questa mi sa che è una zona Da cui non si può più uscire O meglio Devo prima liberarmi Porca miseria Villaggio invisibile Gli Argun Ma porca miseria Io volevo tornare indietro E comprare E livellare Fammi mettere però l'armatura qui Armatura L'abito Almeno un po' più di difesa Diecimila anime Perse Questo è un messaggio I folli I folli Si affannano furtivamente In rituali Per chiamare la luna Scopri i loro segreti Dove siamo finiti Vabbè ormai me le posso scordare Quelle anime Intanto Ho già capito Via questo Ah no Quella è l'ancettola Tanto ormai morto per morto Buono Almeno qua sono facili da beccare Gemelli Buono Tre Di qua dove si esce No C'è sto stronzo di nuovo Che Ho fregato prima L'hai catturato Peggio Degli archivi del duco Magari aspettiamo che venga un po' più qua Ah no Non può venire qui Così Però neanche io posso beccarlo Questo colpo toglie Tutta la vita Quasi Almeno è sicuro così Ok Ridammi le mie anime Mi fa un po' paura sto luogo Merda Mi Quasi sono Porca miseria Volevo usare l'altra arma Che magari era più forte Invece no No Anche perché Non so dov'è Respawn Se muoio E hanno di vita Frammenti gemelli Buono Allora questi lo lasciano Luna Questa deve essere una runa Luna Ottieni i più ecchi del sangue Appena però trovo l'attrezzo Lì per le rune Magari Merda Ah questo Questo è il mago Forse Mazzà oh come soffrono Ah di qua si esce Speriamo Sento i passi vicini Cos'è questa cosa? Quando mai lo sconfiggerò Quello? Ah andiamo Controlliamo di qua va? Magari poi Un'altra volta Tra l'altro Ah la lanterna Buono Allora Possiamo tornarcene indietro? Così mi vado a recuperare le anime Meno male Allora Andiamo subito Di qua Ah tra l'altro Forse abbiamo sbloccato Ah infatti Era di qua Il nuovo teletrasporto Andiamo Cut the drill world Per le anime In realtà non sono molto lontano Devo solo ammazzare qua Due o tre di questi Ma c'era un corvo Da queste parti Ma l'ho beccato bene E di qua invece Ecco qua Mi ricordavo Altri due di questi Buono Ho beccato pure l'altro Però non è morto Questo Dai che c'hai uno di vita Eh di qua Allora Andiamo da questa parte Non te ne andare Ok Allora andiamocene via Subito Via Taci sua Oh merda No C'erano anche questi Non ero passato di qua Prima Viene fin qua Ah no C'è il limite di aggro eh Non ho più molotov Però Facciamo così va Se non sbaglio Ero andato di qua No di qua Non sono passato Occhio iniettato di sangue Lo guardo dopo Forse anche adesso Possiamo guardarlo No Prima recuperiamo le anime Forse Mi sembra che era questa la zona Però c'era quel nemico Tosto Ah è una statua Anche perché dovevo tornare sul tetto E prendere quell'oggetto dall'alto Mi sa che mi sto perdendo No No quello è il cacciatore No questa è un'altra zona No 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 Mi sembra pure bella vasta Andiamo prima di qua Ok ho sbagliato lato Era dall'altra parte Sì era di qua Ah uno è morto così Non so come Ma uno di loro è morto No sono in due No Andiamocene Ah ecco ecco ci siamo Allora se no ci sono più i cacciatori Per me è meglio Dove era di qua Dunque Su questo tetto qua Ci sono solo due corvi Non so se vale la pena andarci Forse no Io direi che è meglio gettarsi qua Sì ho fatto bene Opla Sangue freddo frenetico Questo mi darà ancora più anime E adesso c'era quella creatura Che mi avrà fregato le anime Sicuro Ah eccole qua Buono Prendile Allora via subito Prima di tutto Livelliamo Mi serviva 16 di forza 16 Potrei fare anche un altro livello Magari O resistenza O vita Magari resistenza Visto che uso sempre gli attacchi caricati Possiamo finalmente usare quella spada Eccola qui Ora come ora Anzi in realtà è più forte Beh Proporzionalmente più forte Veloce Fa l'affondo L'attacco caricato Sempre l'affondo Ah ecco Diventa uno spadone Questo è più lento Però Di sicuro è più forte Buono Invece è L2 L2 è molto lento Ok Vediamo se Se la possiamo potenziare Magari aggiungendogli pure le gemme Che visto che si possono spostare Ma intanto ripariamo Poi rinforza Passa già a 110 Oh buono Passa già a C E basta Ah cacchio Una Però le posso comprare Invece questo Questo aumenta pure Questa è più forte Però secondo me Vediamo Ne compro giusto una Eccola qua Ah ma il numero Sono quelle che ho io Io pensavo che Ah buono Allora me ne vende all'infinito Rinforza Poi passa a C E non so se potenziare questa O questa Magari aspetterei E' molto più forte questa E senza gemme niente Prende più 28 E' a 140 Però devo anche vedere Se poi mi piace Eh no Questa Si poi la potenzierò Ma per adesso no Ok allora Spostiamo le gemme Così Ah no Però Devo prima toglierla Togliamo queste due Più 8 Più 8 mazza Niente una bestia Quest'arma Mettiamo pure questa Ah poi avevo trovato Quella lì del fuoco Però forse Non la posso mettere Su questa Ah a meno che E' per la pistola Forse per un altro Tipo di armi Magari per l'ascia O forse sono quelle Di livello 3 Perché io ne ho due E ne me ne manca una Quindi sarà per quelle Ok controlliamo Di averle messe Si Vediamo un po' adesso Beh Non è male Dunque per lipellare Magari potrei Forse però mi conviene Tenerle queste Si livelliamo poi Compriamoci Magari delle Molto Ah poi volevo fare Anche un'altra cosa Cioè mettere il cappello Qua per i messaggeri Andiamoci un attimo Così vediamo un po' Com'è German è sparito E' un po' adesso Mettiamo il cappello A cilindro Ma si Lasciamogli questo Allora direi di tornare Non so che zona A proseguire Ma io proseguirei di qua però Allora Proviamola subito Buono Non è niente male Lo stordisce subito Perfetta Dovrei provarla Anche a una mano Se è veloce e potente Non è niente male Però Che potenza Buono buono Levati però adesso Mi piace Ehi però Cacchio Mi è finita la stamina Aspetta Mi piace Bella veloce Ho trovato la mia arma Proviamo l'attacco R2 Di questo invece Buono Niente niente male Bella potente Merda Mi ha beccato proprio bene Questi ne hanno di vita Aspetta che Tieni Ah il gigante è tornato indietro Qua Non ce n'era un altro A quanto pare no Va bene dai Io magari Mi fermo qui Così proseguiamo poi Nel prossimo video Da questa parte Ci vediamo poi Nel prossimo video Di Bradborn Ciao a tutti